oi buon dia buongiorno buon dia come quel freddo cane mo falcone che mi raccontate di bello io sono qui rispetto al barucchiere che mi rivelevo il scalpo e che dire forse il coraggio di avanti tempo qui nuvoloso domani dice pioggia che palle che palle che palle che pioggia questa odio la pioggia po e che dire ti auguro una buona giornata che state bene io sono qua del barbi arti fra poco mi è mitoso no a cazzo mi lavo la barba spero che state bene vi auguro una bellissima giornata buon lavoro per chi lavora per chi studia per chi studia eccetera eccetera saluto i miei carissimi amici farsi per il mondo i miei parenti la mia dolce metà ciao amore sotto anche i suoi genitori miei colleghi colleghe ora sono qui che ho ancora bisogno da aspettare abbottando tempo aspettarò tornato in premura morirò in premura come si dice ma qui iniziate i botti soliti cretini e che dire vi auguro una bellissima giornata che se non mi saluta non voglio vedere i saluti quando sono mi scrive mi mando baci baci abbracci e che dire vi auguro una buona giornata cosa sto sbagliando sto venendo la biocco forse coraggio di movanti un bacione ciao a tutti ciao amore sopporto che saluto santa antena le navi rogai per rosse ciao leo benvenuto mi stai guardando nella mia diretta che di uno che sta parvo che sta tenendo barbiere e boh che dire vi voglio bene grazie ancora che dire niente fate fate i bravi restate sane come dice dato youtuber che non mi ricordo del link boh saluto anche il dario augusto quarto pure viene la biocco per poco un bacio alla prossima